Tutti gli aggiornamenti che riguardano le due formazioni abruzzesi che saranno ai nastri di partenza nel prossimo campionato di Serie C, ovvero Pescara e Pineto. Per questo saluto e ringrazio Massimo Profeta. Buongiorno Massimo, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione dell'ascolto. Allora, intanto nel mercato mai dire mai, perché c'è stata la sorpresa Massolo, abbiamo già documentato sul nostro sito, vi ricordo l'indirizzo www.rete8.it. Sorpresa Massolo, perché sembrava tutto fatto, Massolo, portiere del Palermo classe 1996, era stato proposto un biennale con l'inserimento di un terzo anno raggiungibile ad obiettivi. Alla fine però il portiere, che vedete qui in foto, ha detto no, lo aspetta il Vicenza, assistito da Danilo Caravello, io ci ho parlato anche oggi, insomma non c'è nessuna riapertura. Anche e soprattutto in virtù dell'operazione De Planche, il portiere che si è messo in grande evidenza nei mondiali Under 20, ex Milan, di proprietà del Vicenza, e sarà ceduto al Palermo. Quindi il Palermo praticamente ci sarà il percorso inverso da parte appunto di Massolo, Massolo ha più soldi per De Planche, che si trasferirà a breve dal Vicenza al Palermo. E caccia alla vice Plizzari, che non dovrebbe essere Giuseppe Ciocci, non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, portiere che ha militato nell'Olben, Serecì, due stagioni orsono, 2021-22, di proprietà del Cagliari. Staremo a vedere, naturalmente bisognerà affiancare a Plizzari, che resta insomma, almeno così ci hanno detto i dirigenti del Pescara, non ci dovrebbero essere sorprese. Per Merola siamo ai dettagli, una trattativa infinita, Merola vuole fortissimamente tornare a Pescara, a lavorare alla corte di Zeeman, del resto insomma si è sicuramente realizzato con il tecnico Boemo, 8 gol, 6 assist nell'ultima stagione da gennaio a giugno, il Pescara ha sistemato tutto per quanto riguarda l'accordo economico con il giocatore classe 2000, bisogna mettere ancora a posto qualche cosa con l'Empoli, proprietario del cartellino, insomma l'Empoli sarà riconosciuta una corposa percentuale sulla rivendita futura. Quattro sono gli innesti certi, Paolo fino a questo momento mancano solo gli annunci, il terzino destro Pierno, classe 2001, eccolo qui, siamo stati fortunati, 2001 dal Lecce ex Virtus Francavilla, Lecce andrà il 30% sulla rivendita futura, Leston e Tujov, classe 2001, svincolatosi dalla Spallo, la mezzala di struttura e di qualità, naturalmente Niccolò squizzato, Play mezzala, qualcuno dice più mezzala che Play, anzi lo dice lo stesso Samuele Olivi che ha allenato lo scorso anno questo ragazzo di prospettiva nel Renate, a titolo definitivo, lo ricordiamo dall'Inter, all'Inter sarà riconosciuto una percentuale del 40% sulla rivendita futura, e appunto Michele Masala, eccolo qui, in foto Michele Masala che è stato svincolato dal Cagliari, svincolato dal Cagliari, è un classe 2004, un giocatore insomma interessante, a centrocampo potrebbero arrivare, potrebbe arrivare Antonino De Marco, Antonino De Marco è il nome nuovo delle ultime ore, un classe 2004, non ha ancora compiuto 19 anni, 26 presenze e 4 gol nella Bibonese, allenata da Modica in Serie D lo scorso anno, tra l'altro si è messo in evidenza questo ragazzo di prospettiva anche nel Torino, il Torino l'ha utilizzato nel trofeo di Viareggio nell'ultima edizione, Modica che è stato allenatore, che è stato giocatore e collaboratore tecnico di Zeman, lo ha consigliato proprio all'allenatore Boemo, insomma la trattativa è calda, bisognerà trovare la quadra con il presidente Caffo, il presidente della Bibonese, per San Nipoli bisognerà aspettare ancora qualche settimana, evidentemente San Nipoli l'ha messo nel mirino, Daniele De Licari, una mezzala che ha fatto molto bene nella Latina, bisognerà trovare anche in questo caso l'intesa, l'accordo con il club Pontino, tra i candidati, lo ricordiamo, non c'è Garofalo, Garofalo che conosce molto bene Zeman, l'ha allenato due stagioni or sono nel Foggia, classe 99, di proprietà del Brescia, lo scorso anno ha giocato nel Trento in C per metà stagione, De Licari prenderà nel cuore del reparto nevralgico un altro giovane con esperienza in Serie C, per l'attacco invece in stand by Russini, per quanto riguarda invece il Pineto, e concludiamo, insomma il Pineto è molto attivo, dopo Tonti, Amadio, Ingrosso, Germinario, Lombardi, Gambale e Volpicelli, sta per ratificare, ne abbiamo già parlato i giorni scorsi, il resto Paolo Nicolò, Evangelisti, classe 2003, si è messo in evidenza nel Taranto, 34 presenze, scuola Roma, di proprietà dell'Empoli, arriverà in prestito secco dal club toscano, impossibile arrivare a Marco Perrotta, che conosciamo molto bene, 29 anni, cresciuto nel Pescara, soprattutto ha fatto molto bene nel Teramo, è stato nel Teramo del DS, Marcello Di Giuseppe, insomma Perrotta è un profilo alto, sicuramente in Serie C di proprietà del Bari, lo scorso anno ha fatto molto bene nella Provercelli, ancora nulla di fatto per Giovanni Di Renzo, che è un gioco che ha fatto registrare una crescita esponenziale nel Chieti, nell'ultimo campionato di Serie D.